Sconfitta e rimpianti, perde di misura il Brindisi, sorride sul sintetico del donato curcio di Picerno il Benevento, organico di qualità, quello sanita che sfrutta al meglio l'unico gol della partita, lo realizza a metà della prima frazione l'ex Foggia Alexis Ferrante, seconda affermazione di fila e quarto risultato utile consecutivo per gli uomini di Matteo Andreolotti che si affacciano così nei quartieri altissimi della classifica i Mesapici invece non riescono a dare continuità al successo casalingo di giovedì scorso ottenuto su un neutro del Monte Risi di Cerignola contro il Monte Rosi ed incassano il terzo K.O. in quattro gare di campionato. Primo quarto, molto maschio ma senza particolari emozioni, alla prima occasione il Benevento passa e il Kawakibi crossa dalla destra, Ferrante fa centro, non incolpevole Saio nella circostanza. Campani in vantaggio, Brindisi pericoloso, in chiusura di tempo su azione d'angolo, bella ma non efficace la soluzione acrobatica di Cappelletti. La ripresa si apre con la novità Gunsberry-Pugliesi e il Benevento all'attacco, bravo Saio questa volta a sbarrare la strada sul primo palo a Talia, concedendo agli ospiti solo un corner. Valenti dalla parte opposta ha libertà di calciare ma alza troppo la mira, può chiuderla, il Benevento, ancora bravissimo però nella replica all'estremo dei mesapici sulla conclusione di Karic. Resta in partita la squadra di Danucci che va ad un passo dal pareggio intorno all'ora di gioco. Cappelletti, il più pericoloso dei suoi, di testa sulle sviluppi di un piazzato, chiama alla replica superlativa Paleari. Intervento salva risultato per il portiere dei Campani. Dentro nel finale anche Bunino, il match winner con il Monterosi e Galano all'esordio con la maglia del Brindisi ma il risultato non cambia. Vince il Benevento che si porta almeno uno dalla coppia di testa composta da Latina e Juve Stabia. Il Brindisi invece resta tre punti in classifica ma con una gara da recuperare e sabato alle 16.15 è atteso dall'impegno in trasferta sul campo dell'Atina una delle due capolista del girone C di Serie C.